Sono Elisa Marcon, lavoro in Derigo da 11 anni e sono coordinatrice dell'ufficio marketing licenze e brand manager di Market House e Ialea. La cosa che mi piace del mio lavoro è il fatto di poter vedere a 360 gradi tutto il processo dall'inizio fino a quando l'occhiale viene messo sul mercato. E un'altra cosa che apprezzo molto è il fatto di poter lavorare in team, cosa che ho vissuto pienamente soprattutto ora con lo sviluppo del nuovo marchio aziendale Ialea.